Uno spazio creativo unico in pieno centro storico dove nascono le B, ispirate alle forme delle donne. In via San Michele, al Civico 6, la designer aquilana Roberta Rubeo ha creato un centro di stile a disposizione della città per eventi legati al mondo di Winket. Winket è il brand, in inglese vuol dire letteralmente strizzare l'occhio, ammiccare e le borse che crea tutto made in Italy con solo la produzione esternalizzata ma che rimane in Abruzzo, sono borse particolari, ispirate appunto alle forme delle donne. B, che sta per Body, Bobs e Booty. Borse che vanno al di là dello stereotipo perché dietro c'è un progetto vero e proprio. I suoi brevetti, tra l'altro di design industriale, sono depositati a livello internazionale. Il progetto di Winket fa pure della tecnologia il suo punto di forza con una mission, creare una community di Winket, persone libere che esprimono attraverso lo stile e la loro personalità. La B è una parte di me che volevo venisse fuori per rappresentare in qualche modo le donne. Quindi ho voluto creare un accessorio che le rappresentasse in modo intimo e dedicato. Moda e piattaforma social si uniscono in questo progetto che nasce nel 2015 e dopo un rodaggio a Roma a Prodall'Aquila. Da un lato c'è la voglia di riscoprire le proprie radici, dall'altro quella voglia di aprirsi sempre di più all'esterno. Artigianato, legame con il territorio e impeccabile organizzazione aziendale e industriale. Il percorso creativo nasce e cresce nell'atelier in centro. I colori delle B, in quattro versioni, la big, la baby doll, la baby e la birba, illuminano lo spazio creativo. La B ha avuto il suo lancio a Milano e una campagna pubblicitaria di forte impatto, in cui le donne giocano con la B, proprio in virtù della rappresentazione delle forme del corpo, ha avuto successo. WinCat letteralmente vuol dire ammunicare a strizzare l'occhio a, quindi let apri delle finestre che ci permettono di decidere ogni giorno a cosa ammunicare o comunque guardare positivamente. Possiamo sicuramente indossarla in un modo diverso, giocare con lei e in un mondo social sicuramente si può condividere uno scatto diverso. Identificazione è la parola chiave, ma anche trasformazione, perché basta trasformare il modo di indossare la B per renderla ogni giorno nuova. Pur nascendo nel campo dell'innovazione tecnologica, la designer Roberta Rubio ha sempre avuto la passione per il design e per la moda e ha unito dunque i due filoni per creare un prodotto unico ammirato da molte persone nel giorno dell'inaugurazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.